Quasi qualche cosa? Il suo apostolato lo mise di fronte a numerose incomprensioni, difficoltà e maltrattamenti. Qualcuno lo definiva originale, quel testimone dell'amore di Dio ritenuto scomodo da molti, in anni di tensione, tormentati, segnati dal consumismo e dall'indifferenza. Col tempo però Fratelletto Reboschini, classe 1928, divenne il simbolo di una vera solidarietà verso le fasce sociali più disagiate ai margini della società. Fin dagli anni 70 scoprì le miserie della vita metropolitana del capoluogo Lombardo, barboni, immigrati, persone sole, senza affetti e senza fissa dimora. Per loro diede vita ai cosiddetti rifugi, luoghi in cui venivano ospitati ed assistiti, prima da solo e poi con l'aiuto di volontari. A 13 anni dalla morte di Fratelletto Reboschini, avvenuta il 20 agosto 2004 all'età di 76 anni, l'Arcidiocesi di Milano ha annunciato l'apertura del processo di beatificazione del servo di Dio Camigliano, fissata per martedì 19 dicembre a Seveso, presso la Casa Betania delle Beatitudini.